Oggi in voltini di zucchine con cuore filante di scamorza e salmone, quanto sono buoni e facilissimi! Inizia dalle zucchine, lava le, asciugale e affettale. Mettene in una teglia con carta da forno e passa sopra l'olio su tutti i lati. Poi passa nel pan grattato, anche qui per bene su tutti i lati, e rimettile tutte nella teglia. Poi metti sopra un filo di olio e cuaci in forno. Riprendi le fette di zucchine, lasciarle freddare un poco e poi farciscile con salmone e scamorza a dadini. Arrotola e sigilla con uno stuzzicadente. Rimetti tutti gli involtini in teglia, copri con pan grattato, un filo d'olio e di nuovo in forno. Fino a quando gli involtini saranno croccanti fuori e morbidi e filanti dentro. Ed eccoli pronti! Guarda che bontà! Un cuore filante e gustoso! Amici provateli, sono buonissimi!